Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. E' deceduto nell'ospedale di Avezzano, uno dei cinque braccianti agricoli rimasti coinvolti nella giornata di ieri in un incidente stradale che si è verificato nella strada 30 del Fucino. Si tratta di un giovane di nazionalità marocchina di 33 anni. Le condizioni dei cinque erano apparse da subito gravi. Il decesso di uno dei lavoratori nella piana del Fucino aggrava il bilancio dell'incidente. La procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un fascicolo per l'omicidio stradale sulla dinamica del sinistro che ha coinvolto un SUV e un'Alfa 156, indagano i carabinieri. Abruzzo ancora nella morsa del caldo. Dopo le temperature altissime registrate l'altro ieri, anche ieri, il termometro ha raggiunto valori record. Il caldo estremo interessa sia la costa, dove a farla da padrona è l'Alfa, sia l'entroterra. Secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris, sono stati raggiunti 42,8 gradi a Castiglione e Casauri, in provincia di Pescara, e 40,4 a Capestrano, in provincia dell'Aquila. Sfiorati 40 gradi anche a Bussi e sul Tirino e superati 38 a Popoli e Bellante. Superati infine i 30 gradi anche nelle località montane, oltre 33 gradi a Santo Stefano di Sessanio, a 1220 metri sul livello del mare, e a Scanno a 1100 metri sul livello del mare. Oltre 30 gradi a Castel del Monte, Civitella, Alpedena, Pesca Seroli, Pesco Costanzo e Rocca di Mezzo. Rovente anche la costa, con Montesilvano che ha superato i 35 gradi. Nonostante le temperature elevate, il centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile definisce basso il rischio incendio in tutte le province. Pescara intanto è tra le città italiane con il bollino rosso del Ministero della Salute. Nel capoluogo adriatico, anche per questo fine settimana, è previsto il livello 3, che indica condizioni di emergenza, con ondate di calore, possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi, purtroppo attesi sulla salute. Ieri l'atleta tedesca Liane Lippert, regolando una fuga di tre cicliste scattate dopo il Gran Premio della Montagna di Penne, ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia Women di 154 km da San Benedetto del Tronto a Chieti. A primeggiare nella volata del gruppo è stata la maglia rosa Elsa Longo Borghini, che in classifica generale mantiene un distacco di tre secondi dalla campionessa del mondo, Lotte Kopecchi. Decima l'atleta pescarese Gaia Realini con un distacco di un minuto e 44 secondi. Ascoltiamo le dichiarazioni della vincitrice di tappa e della maglia rosa raccolte nel dopo-gara da Davide D'Amicis. Ascoltiamo. Liane, una grande vittoria quella di Chieti per te. Come ti senti? Sì, mi sento felice, è stata una bellissima giornata, mi è piaciuta molto. Molto difficile l'ultima scalata verso Chieti, si è presa una bella vittoria. Sì, l'ultima scalata è stata difficile, faceva molto caldo, ma mi sono sentita bene tutto il giorno, mi prendo questa vittoria, come hai detto tu. Oggi hai marcato stretto Lotte Kopecchi, non li hai lasciato neanche un secondo, la marchi stretta in tutte le tappe, hai proprio di carattere, hai stabilito la tua superiorità, una grande forma per un Giro d'Italia che non vuole lasciarti scappare. Ma allora diciamo che domani sarà il verdetto finale, perché comunque ci sarà la doppia scalata del blockhouse. Oggi ho detto, come ho già detto prima, io mi diverto con Lotte Kopecchi, è bello sfidarla ed è una sfida sana, è divertente anche perché la prende anche lei, credo, in questo modo. Tre volte su quattro mi batte lei, qualche volta la batto io, va bene così. Per domani cosa pensi? Gestirai fino alla fine per poi sull'ultima salita fare un tu per tu, una lotta a due con Lotte oppure proverei un'azione? Sinceramente non so cosa abbia in mente Lotte, penso che cercherò di guardare me stessa e gestirmi al meglio. Una grande preparazione per le Olimpiadi, come ti vedi da qui a Parigi? Mi vedo sicuramente stanca a fine Giro, poi spero di recuperare ed essere in forma per le Olimpiadi. Una tappa, quella arrivata ieri a Chieti, che ha mostrato la bellezza dell'entroterra Teramano e Pescarese, nonché le bellezze del capoluogo Tiatino grazie al grande investimento della Regione Abruzzo. Ascoltiamo il sottosegretario alla Presidenza, Daniele D'Amario. Vieni, buongiorno. Sottosegretario D'Amario a Chieti per la prima tappa arrivo, prima arrivo abruzzese, per il Ciro d'Italia Donne 2024, un'altra grande vetrina per l'Abruzzo. Sicuramente è una giornata bellissima qui sopra il centro storico di Chieti, la tappa del Ciro d'Italia, domani riprecheremo al Block House, l'Abruzzo punta sempre di più sulle grandi manifestazioni per accendere un riflettore sul proprio territorio. Il legame oramai tra la bici, sia al maschile che al femminile, con l'Abruzzo è un legame consolidato. Oggi è una splendida giornata, dicevo qui al sole, qui al bel sole di Chieti, il centro storico pieno di tante persone, andiamo avanti così, rendiamo l'Abruzzo sempre più visibile al mondo intero. Ecco, poi il gran finale... Niente più disagi per gli automobilisti. La Galleria San Silvestro, chiusa il 22 novembre scorso a causa di un crollo, da oggi è di nuovo percorribile. È il commento del capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo Dincecco, nel quale appunto lo stesso Dincecco ricorda che il 27 febbraio, in occasione dell'evento, l'Italia del Sì, in programma all'Aurum di Pescara, il ministro Salvini aveva assicurato che in estate la Galleria, che collega con la circovallazione Pescara e Francavilla al Mare, avrebbe riaperto i battenti. E così è stato, ha detto Dincecco ancora una volta, ha aggiunto, la Lega mantiene gli impegni presi con i fatti e non solo a parole. Ieri pomeriggio si è tenuta nella sede della CGL Abruzzo e Molise a Pescara la prima riunione del Comitato La Via Maestra e No Autonomia Differenziata, che raccoglie le 34 associazioni firmatari a livello nazionale della richiesta di referendum abrogativo contro la legge sull'autonomia differenziata. Alla riunione, oltre alla fitta rete di associazioni aderenti, hanno partecipato tutte le forze politiche d'opposizione al governo del centrodestra, esclusa azione, le sigle sindacali CGL e Will e l'Ali Abruzzo, che vede anche rappresentanti sindaci di centrodestra. Da martedì 16 saranno a disposizione, nella sede della CGL a Pescara, i moduli da 40 firme ciascuno, che dovranno essere vidimati dalla Corte d'Appello tra il 17 e il 19 luglio. Mentre nel prossimo fine settimana, il 20 e 21 luglio, partirà la campagna di raccolta firme nelle principali piazze e in particolare in tutte le località balneari della costa abruzzese. Nel ribadire la totale contrarietà all'autonomia differenziata nei vari interventi, sono stati toccati temi importanti che devono far breccia, secondo appunto i promotori del referendum, nell'opinione pubblica per far capire come questa legge andrebbe ad influire in modo negativo sui settori chiave come la sanità, ad esempio, già di per sé afflitta da mille problemi. La decisione di tenere fuori la Lega dal governo cittadino di Montesilvano sarà oggetto di una profonda valutazione, a sottolinearlo il vice segretario regionale della Lega Abruzzo, Sabrina Bocchino, che si dice anche profondamente preoccupata per il quadro politico-amministrativo che sta emergendo in città. L'insoddisfazione è mostrata dall'assessore Francesco Di Pasquale, che nonostante sia stato il più votato alle ultime elezioni amministrative di Montesilvano, non riceverà la delega di vicesindaco, sommato al fatto che inspiegabilmente la Lega viene tenuta fuori dalla giunta comunale, calpestando con Boria il volere degli elettori, delineano un quadro del centrodestra cittadino drammatico. Siamo seriamente preoccupati, prosegue, per la produzione amministrativa dei prossimi mesi, che sarà scarsa perché figlia di mille mediazioni al ribasso per provare a tenere compatto ciò che compatto non è. E' molto grave. Inoltre, l'atteggiamento avuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia nei confronti della Lega da parte degli alleati è stato commesso un pesante atto politico. Se la Lega facesse la stessa cosa in altri consessi comunali o in quello regionale, non credo che alcuni sorrisi stampati rimarrebbero uguali. La decisione di lasciare fuori la Lega dalla giunta è un atto ingiustificabile e, ripete Bocchino, sarà oggetto di approfondita analisi. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie a ridosso dei rilievi in attenuazione inserata e nottata. Caldo torrido sulle zone interne, nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, con temperature massime localmente superiori a 38-40 gradi. Caldo a foso lungo la fascia costiera, con temperature comprese tra 31 e 35 gradi. Poche novità domani, prevalenza di tempo stabile, con possibili annuvolamenti in giornata. Temperature in ulteriore lieve aumento, venti deboli, mare generalmente quasi calmo, poco mosso al mattino, con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata. Con i dati di abruzzometeo.org noi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. A risentirci.